Carissimi fratelli e sorelle, oggi, 21 giugno, memoria liturgica di San Luigi Gonzaga, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo 7, 6, 12, 14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Può sembrare un po' sprezzante la richiesta che Gesù fa nel Vangelo di oggi. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. In realtà, dietro un'immagine così poco romantica, si scena un realismo pragmatico che non dobbiamo mai perdere di vista. Non tutti possono capire ciò che stiamo vivendo o ciò in cui crediamo. Dimenticarsi di questo significa peccare di ingenuità ed esporre ciò che abbiamo di più caro a pubblico ludibrio. Bisogna sempre scegliere con cura cosa dire, quando dirlo e a chi dirlo. Facendo poi un passo in avanti, Gesù prosegue Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi, fatelo a loro. La regola d'oro, che ci ricorda che molto spesso pretendiamo un bene dagli altri, ma non siamo disposti a darlo a nostra volta. Ultima nota realistica del Vangelo di oggi è in quest'ultima notazione. Entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano. Prendere sul serio Gesù non è una passeggiata, è invece una via faticosa, ma è l'unica via che conduce da qualche parte. Le altre vie invece sono più comode, ma portano sempre al vuoto cosmico. Conosco molta gente che sperimenta questo vuoto e non trova più senso nel vivere, perché non vede più un significato a ciò che sta facendo. Il Vangelo è esigente, ma dà come contropartita un senso che riempie tutta la vita in ogni suo aspetto e sino alla fine e oltre. Grazie. 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 Grazie.